numero 10, Raffi Caleo, 11 rosa dei venti cavalli allineati dietro al mezzo meccanico, stacca la macchina, partiti prova Renato a mettersi davanti a tutti, all'interno RIS Very Nice prova a resistere, andiamo verso la piegata, scende allo steccato al comando Renato e si mette davanti proprio a RIS Very Nice ecco i cavalli che stanno affrontando la prima piegata, andiamo al passaggio ai 200 il passaggio ai 200 con il 4 di Renato davanti, 14 e 4 sulla scia della battistrada RIS Very Nice poi c'è il numero 3, numero 5, Randy Scott squalificato finisce qua la corsa di Randy Scott, 29 e 5, passaggio ai 400 andiamo verso la piegata con il numero 4, numero 6, Red Disgray squalificato anche Red Disgray finisce al tabellone, Renato, RIS Very Nice, Resina Holtz, Ronzinante e Graal 44 e 7, passaggio ai 600, si torna a transitare sotto le tribune con Renato pilotato da René Legati che va a chiudere il primo giro di corsa 59 e 3, passaggio al mezzo miglio, molto buona l'andatura in questa prima parte della quarta albreda di Padova ecco i cavalli che stanno affrontando la piegata, Renato su RIS Very Nice, Resina Holtz, poi Ronzinante e Graal 1.14.6, passaggio al chilometro, non cambia la situazione nelle posizioni di testa, ancora davanti a tutti Renato numero 10, Raffica Leo squalificato finisce qua la corsa di Raffica Leo, andiamo con i cavalli verso l'ultima piegata Renato è ancora alla comando, indietro ci sono RIS Very Nice per consiglia esterna invece Resina Holtz si avvicina al battistrada, anzi scuola si avvicina alle prime posizioni Rosa dei Venti che adesso è su Resina Holtz, siamo con i cavalli all'imbocco della retta d'arrivo gli ultimi metri di questa quarta qui a Padova, è sempre il 4 di Renato in testa non dovrebbero esserci particolari problemi, Renato attenzione, Renato riesce ad esistere molto bene fino alla fine su Rosa dei Venti, terza piazza, Ronzinante e Gralle